Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Prima della intro vi volevo dire che questa gara è stata creata da Porkmoz Il suino raga, comunque lui mi aveva detto perché non faccio le gare Perché faccio le gare senza collisioni Sì, da punto a punto senza collisioni, no no Raga, io per il suino, solo per il suino, metto da punto a punto con collisioni Lo sa che sclererò male, però io lo faccio solo per il suino Ecco qua con la gara ragazzi, allora dobbiamo partire subito Che poi c'è una parte a piedi, impegniamo, impegniamo, impegniamo Mamma mia raga, voi non lo sentite, ma c'è la radio, guardalo C'è la radio di sottofondo No, non si capisce niente, non si capisce niente Dai andiamo, andiamo, andiamo La radio a piedi, mai vista raga Asui, cioè Asuini Vi volevo dire, come vedete abbiamo le collisioni Miracolo raga Perché Porkmoz mi aveva chiesto di mettere le collisioni Perché mi chiedeva perché, cioè, perché non li mettevo mai Perché, mannaccia lui, vuole vedermi trollato lui dagli altri Da quello che ho capito però, eh Comunque sui, te trollo io, eh, domani Domani te trollo io, mannaccia te Oppure stasera sui Se ben inviti in parte sui, te trollo male Comunque partiamo Questa gallerita è stata creata dal magnifico suino Porkmoz Il capo, non riesco a parlare Il capo branco dei suini raga È rimasto trollato o no? GG, guardalo GG Good game, grande Ok Qui è complicato raga Miniatura Dai, dai Ecco, tipo arriva Ok raga Partiamo senza toccar nulla Perché se non tocchiamo nulla Noi andiamo sani e lontani Cioè, non sterziamo nel niente raga Quindi, se non tocchiamo niente Andiamo sani e lontani Vai, vai, vai Facciamo un gladio con la macchina da polizia Non so come cacca si chiama Perché se state fermi senza fare nulla Non ci arriva Ok, ora siamo a piedi Vabbè Avete visto raga, pure voi No Uh Ok, vai, vai Il camioncino Il camioncino raga Prima posizione raga Qui c'è una mega rampa Perché l'avevo provata con Parmos Cioè, l'avevo provata Ah, è d'altra parte Mannaggia me Mannaggia me Si è rimasto trollato male La mega rampa che ama sempre Parmos Cioè, che Uh, un trick Il trick del suino Sui, questo trick è dedicato per te Non esplodere Non esplodere Non esplodere È dedicato per te Sui No, no Che partiamo con l'aereo All'incontrario Partiamo con Che è successo raga Oh No, no Prendi, prendi, prendi Ok Chi è dietro di noi Chi è dietro di noi GG 5, 2, 2, 5 Sempre lui raga Sempre lui Mannaggia lui Ok Ok Allora Qui intanto non spawnano le Rove Ok No 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 Sono rimasto trollato raga Sono rimasto trollato Annaccia meo Ok Vai, vai, vai Che ci recupera Il maledetto raga Ok Qua il drift E il turbo Oh Annaccia meo Dai, dai Che prima Che questo GG Ci Cioè, ci Recupera Ok, ok Sta un po' lontano Anzi Vai, vai Qui è Complicato raga Qui è Complicato Non c'è Sali su Ok raga Riproviamoci Mamma mia E' stra difficile Raga E' impossibile Vai, 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 vai Vai Avete letto? La bestemmia è abbandonata Ha fatto bene Se non bestemmiavo Ok Levati Raga Raga Ma io non capisco Porcomance Come lo fa Il primo colpo Però Riprenditi Riprenditi E' impossibile Poi Porcomance Ha detto nel video C'è un effetto Ottico Mo' lo vediamo raga Per chi non ha ancora Guardato il video Mo' Lo vediamo Tutti Insieme Basta che non ci torniamo Ora E lo guardate Fra 3 2 1 Eccolo qua Mannaccio Dai Sali Sali Concluso In prima posizione Nella gara Di Porcomance E dai Su Ci vediamo Con il gp Dai Per festeggiare Raga Questa La bio GTA Un gp GTA Numero di giri 2 Classe Super Sì sì Va bene Super Ora Facciamo Meggioriorno Allora Facciamo Sereno Trafico No Di livello Di sospetto No Anzi Ragazzi Di sospetto Si Vedo le persone Sì No Blocco di sole No C'è Che sto E invitiamo Tutti Raga Dai Questi inviti Buggati Mannaccio Che tengo Troppi amici Dai Dai Questi inviti Mannaccio Vabbè Ragazzi Vediamo Quella gallerita Facciamo Prima Finalmente Ok Ragazzi L'ho avviato In pochi In 7 Perché Poi Esce Troppo Casino Raga Quindi Prendiamoci Er Wagner No In verità Si dice El Wagner Vabbè Wagner Poterino Del sueno Continua Questa Tutte le munizioni Per far Casino Regà Ci vediamo Con la Gallerita Ok Ragazzi Eccoci qua Con la Gallerita Ok Ho preso L Wagner Regà Ricordatevi Regà Questa È GTA Quindi Ci sarà Un bordello Della Miseria Vai 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 Ok Dai Dai Armi Abilitate Voglio Armi Abilitate Ecco Ecco perché Non voglio mettere Le collisioni Ecco perché Non voglio mettere Mare le collisioni Ecco Non mi lascia Neanche salire Non c'è Meo No Mannaggia te Mannaggia te Che mi hai detto Di mettere le collisioni Ora capisco Come Cioè La sensazione Di essere Trollati Ora Non tornerò Non tornerò Non Mamma mia Non tornerò Mai Il suino Ok Perché poi So Cosa fa Vabbè ragazzi Dai 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 Andiamo Andiamo Che sta Suino Ah mega bello 98 Grande Sui Però Perché mi hai aspettato Sui Non dovevi Non dovevi Ah un altro Vabbè Morite Nessuno Rimane Torlato Oh Asui Filiser Tu fai la stessa fine Tu fai la stessa fine Vieni qua Vieni qua Non ti preoccupare Il tacchettino Non ti fa niente Ok Bravissimo Fai Fai Quinti Sul settimi Ok Ok Allora Andiamo Prendiamo La riparazione Del Del Wagnerito Ok Dove stanno Sti qua Se Apollo Nord Stanno Vabbè Noi Andiamo Andiamo Non in prima persona Possibilmente Ah sui So che dovete venire qua Quindi Attento Attento sui Mannaccio Mega bello Ora Ora tanto Dovevi prendere il check Prima o poi morirai No Non è morto Abbiamo messo due giri Quindi Mamma Mi sta rimanendo Trapportrollato Instagala Oppure parlo come i cinesi Andarci a me Ok Oh Che vuoi Qui invece di fare la gara Famo Rengana Allora Non so che dirvi No 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 Dove stanno Sti zingari Qua GG Sta arrivando Regà GG Sta arrivando Quindi Noi Fammo del trapore Qua Allora Uno Sicuramente passa qua O uno Sicuramente qua O uno Qua in mezzo Che vedevo di Guardate che fine fa Guardate Boom No 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 Oh come è possibile Dove state Vabbè no tranquillo Mega bello Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Bravo 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 Sui Bravo Sui Bravo Sui Che scemo Che scemo Che scemo che sono Però eh Vabbè regà Guardate i miei Wagner Sono duplicate Ma non è ciò Non viene più Filizer Regà Filizer Lo trolliamo Male oggi Che che mi sta Ciochino Che che mi sta Ciochino Che vuoi fare 1v1 Ciochino Va bene Dove stai No regà No regà Sui Tu Vai in paradiso Portanto Scadono il tempo Buttiamoci Prendiamoci Così Facciamo il potere È il potere Tanto la Riavviamo regà Tranquilli Che la riavviamo Senza collisioni Un giro Un giro Dai Un giro Mannaggia Deo Porco Mannaggia Deo Mi hanno tolato male Sta gara Vabbè La riavviamo Senza collisioni È un giro Guarda lo GG Good game Grande Eccoci qua Con la gara Senza collisioni Ho messo Un giro Quindi Chi arriva al primo Vince tutto L'ho avviata Anche in meno giocatori È meglio così Allora Partiamo con Elwagner C'è uno con la X prototipo Vai regà Cerchiamo Di non trollarci Subito Vai regà Ok Ok Perfetto Vai qua Ok Ok Sono andato a lungo Regà Mannaggia Ok Allora Andiamo 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 Carriendo Del podio Regà Carriendo Del podio Però Sono 5 persone Mannaggia Ve lo giuro Mi 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 Nervoso Tutto Coro Vabbè ragazzi Se vi piaciuto Questo video Arriviamo a 30 like Mi raccomando E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima So Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.